Buon pomeriggio da Andrea Cartotto. Un breve videocorso su richiesta, anche in questo caso, per rispondere con piacere a un'esigenza formulatami dai colleghi, cioè il come avviare in maniera istantanea, senza in questo momento ricorrere al calendario di Google, un meeting, che poi servirà per una sessione di video lezione, con lo strumento Google Meet, a disposizione, ricordo, dei docenti che hanno un account Google Suite. Altra raccomandazione, per rispettare la condotta, cioè la policy, le condizioni d'uso di Google, le sessioni debbono rimanere interne all'organizzazione, dove l'organizzazione è la scuola. Quindi il docente account Google Suite invita e fa partecipare gli alunni con account Google Suite della sua scuola. Browser Google Chrome, in questo caso, ma andrebbe bene anche Mozilla Firefox. Verifichiamo in alto a destra che ci sia il nostro account scolastico di Google e non il personale. In questo caso io clicco, clicco sull'account scolastico da me precedentemente inserito. A questo punto posso andare sul pulsante subito a sinistra, quello quadrettato, che si chiama App Google, per mostrare le differenti opzioni di scelta a disposizione del docente. Clicchiamo direttamente su Meet. Chiudo nel frattempo una precedente sessione che avevo lasciato aperto, dunque che avevo svolto, ed ecco la nostra finestra di accoglienza con data e ora del giorno. Un clic sul più, partecipa a una riunione e vado ad inserire il nome della mia sessione. Se fosse ad esempio una riunione di settore, perché lo utilizzo con altri colleghi, o un recupero uno a uno con un alunno che mi manifesta una difficoltà, vado ad inserire quel nome. In questo caso, riunione 040420, e poi clicco su Continua. Ho appena generato il mio meeting. Anzi, a dirla tutta, non ho ancora l'ID, il codice, perché dovrò cliccare su Partecipa, qui a destra. Non vi preoccupate, sta mostrando errore fotocamera, perché la webcam del mio computer è ovviamente già occupata dal mio faccione con cui sto registrando questo videocorso. Bene, siamo pronti. Un clic su Partecipa. A questo punto abbiamo l'ID del nostro meeting. Eccolo qui. Io posso selezionarlo in azzurro con il tasto sinistro del mouse premuto per poi diffonderlo, o ancor meglio fare un clic su Copia informazioni di partecipazione. Posso altresì cliccare Aggiungi qui sotto e aggiungere un indirizzo email sempre interno all'organizzazione o naturalmente più indirizzi destinatari. Ok? Questo riquadro posso chiuderlo con X. Commentiamo brevemente i pulsanti che abbiamo a disposizione. Allora, barra degli strumenti qui in basso. Attivazione e disattivazione del microfono. Tasto rosso per abbandonare la chiamata. Tasto rosso rotondo, perché quello di prima naturalmente che ha il classico tasto rosso a forma di cornetta. Tasto rosso rotondo consente di attivare o disattivare la webcam. Pulsante presenta ora che serve per condividere con i destinatari e dunque con gli alunni l'intero schermo. Pulsante con i tre pallini in basso a destra per attivare una serie di opzioni. Tra le più utili, francamente, segnalo lo schermo intero. Meeting a tutto schermo senza la distrazione data da barre degli strumenti. E il pulsante impostazioni a forma di ingranaggio, che mi permette di controllare, di aver selezionato il corretto microfono, cuffia, e la corretta webcam poi nella sezione video. Osservate, mi taccio. Ed ecco dove ho messo il puntatore che la lineetta accanto al microfono era ferma. Cioè qui ho un riscontro del buon funzionamento del mio microfono. Laddove non funzionasse in prima battuta, cliccate tranquillamente su microfono e su altoparlanti, provate a variare l'impostazione che il computer in quel momento ha. Clic su video, un'altra domanda che mi è stata posta è, a quale risoluzione normalmente registra o trasmette Meet? Per motivi di compressione, rapporto qualità-peso, la definizione è quella standard 360p, dove pista per pixel ovviamente. Se io volessi una ricezione più elevata, cosiddetto hd-ridi, cioè quasi piena alta definizione, che non consiglio dunque di adottare se ci sono dubbi sulle connessioni ovviamente, allora per una maggiore qualità io vado a cliccare sulla tendina e posso scegliere sia sopra che sotto alta definizione 720p. Ricordo di fare questa scelta solo se si ha una ragionevole sicurezza sulla qualità della connessione. Clic su fine per terminare. Abbiamo in alto questa volta a destra, icona della chat, icona di riepilogo dei partecipanti e poi noterete un pulsante in più. Questo pulsante di norma non è presente su Google Meet, ma io consiglio di averlo e quando dico questo intendo dire che occorre scaricare dal web, e vi mostro da dove, una specifica estensione, quindi ricercate banalmente con il vostro motore di ricerca, Google Meet Grid View. Io qui ho rimuovi perché la ho già aggiunta, ma in realtà se io non la ho e me la procuro per la prima volta, il tasto si chiamerà proprio aggiungi. Non succede nulla, appare un piccolo bottone in più in Chrome, si attiva una funzione molto utile richiesta da molti docenti implementata da Google che è questa, la possibilità di vedere, cioè i volti allineati di tutti gli allievi in simultanea, una griglia, grid per l'appunto. Se fate questa operazione preliminare, in Meet comparirà il pulsante di grid view. Un click non è più barrato, così da poterne disporre, e poi alcune impostazioni, mostra solo partecipanti con video, non vi segnalo di selezionarlo, può essere interessante però illumina chi ha la parola, e abbiamo la spiegazione immediatamente qui, vedete che io sto parlando e mi segnala, e includi te stesso nella griglia, così da avere eventualmente il docente insieme agli allievi. Questa scelta io la considero francamente facoltativa. A questo punto svolgo la mia sessione con Meet e quando io ritengo di terminare la sessione, cosa faccio? Allora regola numero uno a prescindere dalla piattaforma che si utilizzi. Il docente esca per ultimo, quindi prima via tutti gli alunni. Il docente poi resta per un istante, a questo punto clicca sulla cornetta rossa e abbandona la sua sessione. Ecco quindi che utilizzare un account Google Suite ci ha permesso di ricorrere ad uno strumento Google, quale Google Meet, per ospitare anche o dunque sino a un elevato numero di partecipanti. Strumento che ricordo è a disposizione di chi ha un account Google Suite, tanto per lasciarvi un'ulteriore segnalazione, sempre sul mio canale YouTube Trainer Andrea, troviamo anche piattaforme alternative quale ad esempio Jitsi, una piattaforma open source di software libero e numerose altre piattaforme nella nostra disponibilità. Grazie per l'ascolto anche in questo caso.